Nel mezzo di cammin di nostra tortura, mi ritrovai per una sala oscura, chiamata Seconda C, che la diritta via era smarrita, ma per trattare del ben che vi trovai, dirò le altre cose che vo scorte. Mi daresti qualche bancanota? Cosa stai leggendo? Non potresti capire. Non potresti capire. Non potresti capire. No potresti capire. Grazie a tutti.